In queste ultime settimane abbiamo parlato di come Fortnite non abbia proprio imbroccato la strada giusta per mantenere l'interesse dei suoi player all'interno del gioco. Bassa affluenza registrata dalle collaborazioni soverchianti è stata conclusa da una comunicazione piuttosto fallace che abbiamo analizzato giorno per giorno durante il nostro format watching, il che ha contribuito in un evento finale abbastanza curato, come abbiamo già detto, ma purtroppo non molto calcolato dalla community stessa, e gli stessi teaser che dovevano introdurre questa stagione hanno ricevuto una pubblicazione piuttosto confusa e imprecisa, il che ha generato, in linea di massima, un generale disinteresse per questa stagione. È tutto perduto o i numeri possono smentire questa cosa, ma soprattutto la qualità soggiacente a questa season permetterà un eventuale rigoglire di Fortnite o rimarremo sempre nel baratro in cui stava cadendo già da qualche mese? Tentiamo di rispondere a questa domanda con questo video appunto, e double buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video di primo pelo sulla season 3. Come vi state trovando voi? Vi è piaciuta? Vi state divertendo? Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate di questa season, mentre magari questo video potrà darvi degli spunti di discussione perché cercheremo di essere abbastanza estensivi. Ho giocato moltissimo in realtà questa stagione, nel senso che in un giorno ho accumulato 7 ore di gameplay, il che vi fa capire quanto comunque mi piaccia Fortnite quando ci sono cose da analizzare. E se qui vi rimando al video dove potete appunto trovare tutta la mia scoperta delle prime ore di gioco con eventuali anche tra l'altro dialoghi con NPC, quindi per chi vuole già masticare un pochino il sottotesto della lore di questa season, questo video è efficace e potete seguirlo appunto sul secondo canale. Andiamo un pochino a fare un wrap up delle impressioni di questa stagione e capiamo un attimino anche alla luce di dati oggettivi che vi mostrerò con le statistiche quanto siamo in buone acque e quanto no. Permettetemi di fare un discorso iniziale che andrò a ripetere per vari punti che analizzeremo all'interno di questa stagione e credo che converrete con me comunque con una tesi di fondo che ci porteremo, ripeto, fino alla fine. Ovvero che questa stagione rispetto alla pomposità e comunque la magniloquenza della stagione precedente sa benissimo di essere una stagione di transizione o perlomeno di essere una stagione ad impatto ed effort assolutamente minore rispetto alla precedente. Epic ha fatto due conti a casa e forse ha capito che le stagioni estive non convengono più di tanto essere pompate, tanto che infatti da vibing in poi ho notato come effettivamente queste stagioni abbiano sempre avuto un taglio sempre più piccolo dal punto di vista della durata, ma contemporaneamente anche secondo me è a mio parere di un basso effort da parte del team di sviluppo per quanto riguarda ideazione, innovazione e soprattutto portare avanti Fortnite stesso. C'è però ovviamente modo in modo di farlo, la giungla è stata ovviamente un modo sbagliato, mentre questa stagione 3 almeno secondo me e per la mia opinione personalissima riesce a prendere un pochino il meglio di tante cose e riuscire anche con pochi tocchi a fare del bene, ora ne parliamo. Però ci tenevo a fare questa premessa perché è veramente chiaro da ogni aspetto e lo analizzeremo prestissimo che c'è comunque stato meno tempo, meno budget, meno risorse, è chiarissimo. Partiamo dal pass che è una delle categorie in cui vale ovviamente sempre di più il giudizio personale e che quindi non mi vedrà soffermarmi per moltissimo tempo. Ho già analizzato le skin più volte, se volete c'è la mia reaction al pass completa, non è chiaramente un pass che mi entusiasma quanto i precedenti, ma riconosco ad Epic la capacità di essersi mantenuta coerente con il tema, anche con qualche uscita dal bordo. È chiaro però che al di là dei gusti personali e l'apprezzamento del tema che una persona può avere, si nota facilmente come queste skin non possano competere evidentemente con quelle dei pass precedenti. In particolare perché, se chiudete gli occhi e ci riflettete un attimo, assomigliano quasi tutte quante a delle skin che trovereste tranquillamente all'interno dello shop piuttosto che di un pass battaglia. Il discorso ovviamente non vale per tutte, ma sembra che non si sia fatto quello step in più per rendere le skin particolarmente uniche e renderle, diciamo, da pass. Rimangono abbastanza sul livello medio, con qualche eccellenza, ma ripeto, ne abbiamo discusso nel video reaction. La mappa forse è la più grande delusione al momento di questa stagione, non tanto per i contenuti che, essendo partito, almeno il sottoscritto con aspettative basse, ho rivalutato, ma soprattutto sulle dimensioni e l'estensione dei cambiamenti. Permane il difetto classico che abbiamo già analizzato di questo capitolo di non mettere mano ai vecchi luoghi, cosa che Fortnite era sempre stato molto attento a fare, quantomeno per suggerire una sorta di impoverimento e deperimento di quelle aree a seguito degli abbandoni delle fazioni principali. Questa cosa non si è verificata, né con la seconda stagione quando la società ha abbandonato l'isola, tanto meno ora con le zone dell'Olimpo e dell'Ade, che rimangono esattamente uguali a se stesse e miracolosamente la statua si è pure riparata, ma rimangono assolutamente spoglie senza mordente perché, appunto, mancano di tutta la caratterizzazione della stagione intorno che possa valorizzarle, compreso ovviamente dei boss. Per quanto riguarda l'area d'estensione del deserto, ripeto, ci si aspettava qualcosa di più, non ci aspettavamo effettivamente che l'area d'influenza fosse così piccolina e questo, ripeto, testimonia, ancora una volta me lo sentirete ripetere spesso, quanto evidentemente c'erano dei tempi stringati o un team di sviluppo che aveva le mani in pasta in qualcos'altro, forse nel Fall Guys che sta per arrivare durante il prossimo mese su Fortnite. Fatto sta che, nonostante stiamo parlando di un deserto che tecnicamente permetterebbe un'estensione molto alta data dal fatto che la rarefazione degli elementi al suo interno permetterebbero un'estensione maggiore, su Fortnite effettivamente la landa desolata del deserto è abbastanza vuota, ma si trova in una piccola dimensione. E sebbene io possa criticare alcuni vizi di forma, come ad esempio il fatto che, dopo tutto, la barca dello squalo non è così differente dal design del vecchio trivellone della Sloan e tanti altri rimandi, forse essere partito con delle aspettative basse, ripeto, per quanto riguarda il design mi ha piuttosto stupito. In particolare si è voluto dare una caratterizzazione più differenziata a questo deserto, passando dalle dune vere e proprie a una sorta di canyon, più simile magari ai paesaggi che potreste osservare nella parte west degli USA, cercando poi di differenziare sufficientemente gli edifici al suo interno e creare un pochino di varietà ambientale. Ad esempio la classica fabbrica che io mi aspettavo essere più o meno triste e morta in realtà non è così male, ovvero parlo ovviamente della zona dove si estrae il nitro, che è uno degli elementi narrativi più importanti di questa stagione, ecco hanno dei tocchi di originalità come questi pistoni che scavano e richiamano l'energia dalla terra, il trivellone, eccetera eccetera, che comunque hanno qualcosa che almeno su Fortnite non abbiamo mai visto, ma che è una reinterpretazione che in quello stile funziona comunque. Sperando dunque che ci sia qualche pretesto all'interno della stagione, magari anche con l'evento estivo, per espandere ulteriormente i cambiamenti alla mappa, non necessariamente col deserto, ma con qualcosa in più che potremmo giocare e trovare per divertirci, il tutto funziona, specialmente perché si tratta di una conformazione geomorfica, diciamo così, che tende proprio a valorizzare l'elemento che è stato voluto mettere in mostra di più in questa stagione e che è effettivamente parte dell'esperienza, ovvero il cambiamento sostanziale dei mezzi di trasporto e veicoli. Ma prima di parlare del gameplay vero e proprio, io vorrei soffermarmi un attimino sulla storia, che vi ho promesso con qualche piccolo spoiler. Anzitutto è piacevole notare come non siano stati fatti passi indietro, ricorderete chiaramente la tragedia della stagione 3, capitolo 2, dove veniva annullato completamente tutto il lavoro della precedente, Charlie Wen ha tenuto botta, fortunatamente. Ritroverete infatti tutte le cose che abbiamo estremamente apprezzato della scorsa stagione, come ad esempio gli NPC dedicati con dialoghi unici, non solo quindi dialoghi segreti, ma anche dialoghi propedeutici all'approfondimento della lore stessa, che vanno ancora una volta a riprendere le stagioni vecchie e anche la prima stagione stessa di questo capitolo, non dimenticando praticamente quasi nulla e creando quindi un filo logico molto piacevole da seguire. Contemporaneamente però si nota come questa stagione sia un palese perenni tempo rispetto a qualcosa che dovrà arrivare dopo, considerando che ora sappiamo che la roadmap è certa e che Marvel vorrà uno spazio molto importante nella prossima stagione. Per quanto infatti sicuramente il nemico nuovo è caratterizzato molto bene e ci fa qualche rimando a personaggi che conosciamo sicuramente meglio, ma fino a qui non voglio dirvi nulla perché il video storia coprirà questo argomento, è chiaro che proprio nella costruzione del climax qualcosa non va. Essere passati dal batterci con delle creature divine a un tizio assedato di potere che si droga con questa nitro è carino, affascinante, contestualizzato dall'ambiente, ma palesemente anticlimatico rispetto a quello che la stagione voleva creare, ovviamente. È, ripeto, un prenditempo. Contemporaneamente se possiamo elogiare il fatto che dal punto di vista narrativo non ci sono stati passi indietro va notato ovviamente come non ci siano stati passi avanti. Certo, sappiamo che avremo delle missioni di dialogo sicuramente con dei personaggi più apprezzati che ancora non ho sentito, non fatemi spoiler, ma rimane il fatto che comunque non abbiamo avuto nessun upgrade per la storyline al momento. Hanno mantenuto tutto e fa un gran piacere, ma non hanno dato un chic in più per spingere ancora di più l'aspetto narrativo. Peccato. Passiamo ora alla parte del bilanciamento che chiaramente sarà da discutere nei prossimi giorni a seguito ovviamente di eventuali patch da parte di Epic Games e comprensione del meta da parte dei player stessi. Considero questa stagione estiva comunque una delle ultime più riuscite perché ha voluto puntare sul perfezionamento di meccaniche già esistenti e ben note all'interno di Fortnite, quindi letteralmente senza inventarsi nulla, ma andando secondo me a toccare i punti giusti per migliorarle e renderle più divertenti o comunque diverse. La meccanica dei medaglioni per esempio non è evoluta in questo senso, ma ha raggiunto comunque un grado di evoluzione maggiore. Le perk secondo me sono le più efficaci che abbiamo mai avuto all'interno di queste tre stagioni, i medaglioni quindi sono veramente interessanti da raccogliere in questa season qua e non sbilanciati come nella scorsa, intendendo che ne esistono di molto più forti di altri, ok, quindi si andavano a preferire alcuni boss, qui hanno scelto un taglio minore, quindi tre boss specifici, ma che hanno delle perk decisamente interessanti tutte e tre. La stessa Nitro che sembra una grande evoluzione non è altro che un'evoluzione di quello che era lo slap juice in passato, ovvero un garantire il turbo ai player, dando però anche l'aggressività e la capacità di sfondare i muri. Il tutto però, ripeto, anche pur non essendo molto innovativo, se funziona va gran bene. È comunque impossibile non notare il fatto, e ve ne sarete accorti, che non sono presenti assolutamente arsenali nuovi, parlo dal punto di vista delle bocche da fuoco vere e proprie, e nemmeno delle mod stesse, che rimangono prettamente identiche. Gran peccato. Allo stesso modo, laddove non si è migliorato, ci sono delle cose che non sono state toccate proprio, come ad esempio i bunker, rimasti con la stessa identica funzione dei precedenti, quindi il nuovo luogo dove poter sviluppare le mod che si aprono solo ad un certo momento della partita, e il treno, che piuttosto che essere migliorato, è stato completamente rimosso. Gran peccato. L'aggiunta però più sostanziale di cui ora dobbiamo assolutamente parlare, ovviamente è quella ai veicoli, di cui si è fregiata questa stagione, facendone veramente il suo punto di marketing e di forza. Anche qui nulla di nuovo sotto il sole per certi aspetti, nel senso che gli acchiappamucche da attaccare ai veicoli o i copertoni potenziati erano qualcosa che avevamo già avuto in passato, ma anche questa volta si tratta di un quality of life migliorato, e delle aggiunte decisamente interessanti. La possibilità di attaccare delle armi alle macchine garantisce ovviamente una cooperazione possibile molto interessante nel momento in cui si gioca di squadra, le mod stesse dei veicoli che sono facilmente attaccabili nel momento in cui si distruggono le casse alla Crash Bandicoot, chiamiamole così, rende il tutto estremamente fluido e divertente. Non dovendo quindi occupare preziosi spazi di inventario per poter effettuare queste mosse, vi capiterà sicuramente di utilizzare veicoli più spesso del solito e con maggiore efficacia. Fino ad arrivare alla follia per la quale, se avrete il coraggio e la capacità di sconfiggere un boss, potrete accedere al suo hangar personale e prendere la macchina definitiva, capace di avere benzina infinita e auto-rigenerarsi. Ed è proprio in questa sezione che forse Epic ha fatto il passo più lungo della gamba. Ripeto, confido nei bilanciamenti, ok, e sicuramente questa stagione ha come mantra il caos, quindi per certi aspetti credo che non verrà mai pacciato nulla. Ma proprio con quest'auto speciale siamo stati capaci di fare una partita e squad interamente dentro alla macchina perché era in grado di rigenerarsi, offrire un danno enorme dato dal fatto che avevamo una torretta montata, il paraurti frontale che faceva un danno esagerato e ci permetteva praticamente di distruggere qualsiasi struttura di ostacolo permettendo alla macchina di non incagliarsi mai ed andare in ogni dove alla velocità della luce. Ecco, tutto questo ci ha permesso di praticamente arrivare in finale senza essere mai scesi dall'auto a parte il loot iniziale e la sconfitta del boss. Voluto o non voluto secondo me è un po' too much, in particolare perché ho notato una forte discrepanza tra fare questa cosa in squad che può essere molto divertente, specie se coadiuvata magari da una chat vocale per cui parlate con i vostri amici e in modalità solo dove facendo le mie prime partite forse l'inesperienza ha giocato parecchio venivi troppo soverchiato dalla mastodonticità di questi veicoli praticamente indistruttibili con danni esagerati e in grado di muoversi e scappare in caso stessi casualmente per vincere il fight praticamente dall'altra parte della mappa con uno schiocco di dita. Ma queste sono solo le mie prime impressioni tra l'altro di un player che gioca prettamente no build e che non si è mai avvicinato al competitive quindi vorrei sapere anche la vostra. Ma chiediamo adesso invece l'opinione alla community di Fortnite. Come è andata dal punto di vista oggettivo dei dati dei numeri questa stagione? Eeeh male. Ribadendo il fatto che comunque dovremmo aspettare le analisi dell'intero weekend perché comunque sabato e domenica di solito rappresentano giorni con più picco d'utenza la tendenza è chiarissima. Se in miti e mortali la scorsa stagione non prendono neanche quelle precedenti perché erano frutto di Big Bang con numeri esageratissimi aveva radunato l'interesse di ben 5.2 milioni di player di picco questa stagione ha raggiunto nelle 24 ore prime della sua uscita nella sua ora di picco appunto poco più di 2 milioni di player. Quindi anche essendo estremamente generosi per le giornate future sperando in un buon passaparola questa stagione ha raggiunto praticamente potremmo dire già poco meno della metà dei risultati della precedente ovvero un utente su due di quelli che giocava precedentemente i miti e mortali non è tornato per giocare questa stagione all'incirca. E perché? Beh qui dobbiamo tornare praticamente alle motivazioni iniziali del video. Come potete vedere la curva di interesse di Fortnite nell'ultimo mese non è andata benissimo a causa di una collaborazione troppo invadente come quella di Avatar che ha completamente soppiantato il tema della stagione cambiandogli completamente faccia per quasi un mese seguito poi da una collab di Star Wars che è sicuramente molto apprezzata dai fan ma che ha saputo troppo di già visto almeno per la BR. Associamo tutto questo a una comunicazione molto sfalsata negli ultimi giorni un evento che non è stato promosso a dovere e in generale una comunicazione di Epic che crede di poter avere l'attenzione dei player all'infinito purché si parli di Battle Royale. Beh i dati hanno dimostrato che non è così. L'incapacità di fornire orari più precisi sulle date di pubblicazioni sia dell'evento che dei teaser successivi ha destabilizzato l'interesse generale per la stagione. Non fatico nemmeno a pensare che alcuni utenti possano addirittura non sapere nemmeno se non tramite il fatto che hanno aggiornato la console che ci sia stata una nuova stagione di Fortnite. Non abbattiamoci però perché è sempre poi la qualità delle cose che paga e questo dobbiamo ricordarcelo. Perché nel momento in cui la season funzionasse bene e gli aggiornamenti fossero costanti cosa che ovviamente speriamo a quel punto il passaparola tra gli utenti convincerebbe molte persone a tornare su Fortnite e saremo un pochino lontani dai guai. Il problema è che non sappiamo se questa è esattamente l'intenzione di Epic Games considerando che una delle cose di cui si sono più preoccupati in quest'ultimo periodo è dirci che Fall Guys arriverà presto su Fortnite ed è il motivo ripeto per cui è evidente che questa stagione ha delle mancanze dal punto di vista della novità e dell'ambientazione proprio perché è evidente che una parte del team stava lavorando a quello. Futuro ancora successivo calcoliamo che la pausa di Fortnite estiva non è mai troppo gradita dai player e non sempre è stata gestita alla grande soprattutto che la prossima è una stagione interamente collab con Marvel diciamo che l'analisi teorica dei numeri come ho fatto adesso non ci aiuta a sperare bene ma magari ripeto le cose non staranno necessariamente così e soprattutto qualcosa può sempre cambiare. A tal proposito infatti fatemi sapere se anche voi state apprezzando questa season pur nei suoi eccessi sempre che li abbiate trovati e ditemi così facciamo questo gioco nei commenti qual è la cosa che avete gradito di più di questa season e quella che avete gradito di meno. Mi raccomando controllate di essere iscritti di aver shoppato con il codice Lelex e noi ci sentiamo ad un prossimo video grazie a tutti e alla prossima